La Federazione Galattica La Federazione lavora in collaborazione con un altro gruppo chiamato Comando Ashtar. Sono lieta di condividere con voi oggi, un importante messaggio della Federazione Galattica. Cari terrestri, noi siamo la Federazione Galattica. Ci rivolgiamo a voi in pace, amore e preoccupazione per l'umanità. Desideriamo invitare coloro che hanno letto questo articolo, a unirsi a noi in un'avventura molto emozionante. Si tratta di un'avventura che si svolgerà nei regni superiori della coscienza, e che sarà diversa da qualsiasi altra cosa abbiate mai sperimentato prima. Si tratta di un viaggio nel vostro universo interiore, dal quale tornerete come un essere creatore pienamente consapevole. Sarete impregnati di saggezza, conoscenza, talenti e capacità, che vanno ben oltre qualsiasi cosa possiate immaginare, o desiderare per voi stessi. Abbiamo monitorato il vostro pianeta per molti anni, aspettando pazientemente. Abbiamo osservato come il vostro mondo si è diventato sempre più squilibrato. Siamo stati testimoni del persistente deterioramento della vostra salute, e del vostro benessere mentale. Sappiamo che siete profondamente preoccupati per lo stato attuale delle cose sul vostro pianeta. Comprendiamo che vi sentite impotenti a fare qualcosa al riguardo. Siamo qui per dirvi che non siete impotenti. Ognuno di voi possiede un'enorme quantità di potere e di influenza, ma la maggior parte di voi non ne è consapevole. Molti di voi non sanno nemmeno di esistere. Ecco perché cogliamo questa opportunità per farvi conoscere la nostra presenza. Vogliamo che comprendiate quanto ci teniamo alla Terra e ai suoi abitanti, compresi voi. Unitevi a noi nella creazione di una nuova realtà terrestre. Siamo qui per un solo scopo. Aiutare l'umanità a creare una nuova realtà per la Terra. Vedete, ogni forma di vita sul vostro pianeta, è connessa attraverso un campo energetico noto come energia della sorgente, o energia di Dio, Dea. Ognuno di voi possiede un aspetto unico dell'energia di Dio, Dea. Vi siete mai chiesti come funziona il mondo? Come si crea la vita? O perché c'è tanta sofferenza e ingiustizia nel mondo? Siete nel posto giusto? I vostri amici galattici sono ansiosi di continuare a condividere con voi tutte le risposte alle vostre domande. Risponderemo con amore e rispetto per il vostro libero arbitrio, come sempre. Non c'è bisogno di preoccuparsi della nostra presenza qui sulla Terra, perché siete già circondati da noi. La nostra missione è aiutare il pianeta. Siamo qui per assistere la Terra e i suoi abitanti, da un punto di vista energetico, affinché possiate liberarvi da questa matrice di condizionamento di cui siete diventati prigionieri. Siamo qui per assistere l'umanità nel risveglio da questo sonno profondo, in cui siete stati tenuti prigionieri per migliaia e migliaia di anni dalla vostra stessa creazione. Siamo qui come servizio all'umanità, per farvi evolvere verso una coscienza superiore. Siamo qui per assistervi nella creazione di un futuro più luminoso, lontano da tutte le tenebre, le sofferenze e il dolore, indipendentemente dal fatto che si manifestino a livello globale, o personale. Desideriamo invitare tutti a partecipare alla creazione di un nuovo campo di coscienza, che chiamiamo coscienza di unità. La coscienza di unità, si basa sul presupposto che non esistono differenze tra gli esseri umani sulla Terra, o in qualsiasi altro luogo dell'universo. Tutti gli esseri sono parti uguali della coscienza di Dio, Dea. Tutti gli esseri sono stati creati dalla stessa fonte di amore incondizionato, e tutti gli esseri sono quindi fratelli e sorelle, inseparabilmente legati dalla loro connessione alla fonte. È tempo di svegliarsi, e di rendersi conto che l'umanità stessa sta affrontando un punto di svolta critico. La vostra specie è a un bivio nella sua evoluzione come razza di esseri sul pianeta Terra. Oggi ci rivolgiamo a voi, per ricordarvi che in questo momento si stanno svolgendo molti lavori dietro le quinte, che riguardano il vostro pianeta e tutti i suoi abitanti. La Federazione Galattica, sostiene con forza gli operatori di luce, e tutti coloro che lavorano per promuovere l'evoluzione spirituale dell'umanità sul vostro pianeta. Siamo qui per voi, ognuno di voi, e vi mandiamo le nostre benedizioni, e il nostro amore. Vogliamo parlare di questioni importanti che riguardano il vostro pianeta, e la direzione che sta prendendo. È importante farlo ora, perché se continuate a seguire il percorso che state seguendo, questo porterà inevitabilmente a un disastro per il vostro mondo, e per voi stessi. In passato vi abbiamo chiesto di non dare via il vostro potere così facilmente. Vi preghiamo di prendere sul serio questo messaggio. L'umanità ha ceduto il suo potere a coloro che cercano di renderla schiava, attraverso molte forme diverse di inganno, e manipolazione. Siamo venuti a sostenervi, dai regni non fisici, nel vostro processo di ascensione per tornare alla piena coscienza. Noi siamo qui. Vi vediamo e vediamo i cambiamenti che stanno avvenendo sul vostro pianeta. I grandi cambiamenti in meglio, ma c'è ancora molto da fare. Lo sarà col tempo. L'intera umanità sta attraversando un cambiamento, e questo cambiamento è ciò che molti chiamano ascensione. Molti la chiamano anche nuova terra, o nuova realtà, dove la coscienza di tutta l'umanità sale a un livello superiore. Vi diciamo che questo processo sta già avvenendo, e che continuerà finché tutti gli esseri umani non saranno in piena coscienza. Sapete già che questo è vero, perché avete visto voi stessi le nuove energie, come vi influenzano, e come cambiano la vostra vita. Vogliamo dirvi, che le cose andranno molto meglio di come sono ora. Se non credete a noi, o a chiunque altro vi dica queste cose, seguite la vostra intuizione, guardate dentro di voi, e chiedetevi se tutto questo ha senso per voi, e se vi sembra giusto. Questo non significa che quando vi diciamo queste cose e vi stiamo mentendo, ma se questo non risuona con il vostro cuore e la vostra mente, allora vi chiediamo perdono per aver disturbato la vostra pace. L'umanità è a un bivio. La massa critica di individui risvegliati ha raggiunto un punto di non ritorno. Il nuovo paradigma è arrivato, e sta a voi decidere il vostro futuro. Il cambiamento di coscienza è già in pieno svolgimento, e il processo di liberazione planetaria si sta muovendo lungo il suo corso. Il vostro contributo in questo momento, consiste nel ricordare a voi stessi che siete esseri sovrani e potenti, capaci di manifestare qualsiasi cosa desideriate. Invece di dare via il vostro potere, iniziate a usarlo per creare la vostra realtà ideale. Vi è stato dato tutto ciò di cui avete bisogno. Sta a voi decidere se raccogliere i frutti del momento presente, o continuare ad aspettare qualcosa di meglio all'orizzonte. Potete essere parte della soluzione, o parte del problema. Dipende da voi. Non siete più vittime indifese. È giunto il momento di agire, e di diventare responsabili del vostro pianeta e dei vostri simili. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce. Aho, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica. Aho, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica. Grazie per la visione!